Ciao a tutti! Oggi facciamo l'ultima esercitazione che sarà sulle funzioni di più variabili. Allora, cominciamo a vedere un primo esercizio in cui ci viene chiesto di calcolare il limite per x e y, che intendono a 0, di y alla terza su x al quadrato più y al quadrato. Quindi verificare che questo limite esista. Allora, sappiamo che in realtà per dimostrare la non esistenza di un limite, basta vedere se il risultato del limite per x e mx, che tendono a 0, della funzione, quindi della funzione ovviamente calcolata in due variabili x e mx, che questo risultato dipenda dalla variabile, diciamo, dal coefficiente angolare m. Allora, svolgendo tutti i vari calcoli, andiamo a vedere che sostituendo quindi a y e mx, otteniamo il limite per x e mx, che tendono a 0, di m al cubo x alla terza su x al quadrato più m quadro per x al quadrato, ovvero il limite per x e mx, che tendono a 0, di x alla terza m alla terza su x al quadrato per 1 più m al quadrato. Adesso, sostituendo, sostituendo, diciamo, ad x lo 0, vediamo che la funzione è esattamente uguale a 0, il limite è esattamente uguale a 0. Quindi, in realtà, non abbiamo dimostrato la non esistenza del limite, perché la funzione del limite dipende da x, non dipende dal coefficiente angolare m. Quindi, in realtà, questo limite esiste, cioè se esiste è uguale a 0. Per vedere se questo limite esiste, dobbiamo riscrivere la funzione in coordinate polari. Vi ricordo che un punto di coordinate x e y può essere riscritto come un punto con coordinate polari, come ρ coseno di θ e la y ρ seno di θ. Quindi, riscriviamo la nostra funzione y terza su x al quadrato più y al quadrato e ci viene ρ al cubo seno cubo di θ, ρ al quadrato coseno al quadrato di θ più ρ al quadrato seno quadro di θ. A questo punto raccogliamo al denominatore il ρ al quadrato che viene moltiplicato per seno quadro di θ più coseno quadro di θ, ma questa somma risulta essere uguale a 1. Quindi, alla fine, otteniamo, semplificando il ρ alla terza e il ρ al quadrato del denominatore, otteniamo ρ seno cubo di θ. Quindi, andiamo ad applicare proprio quella che è la definizione di limite e vediamo che il modulo di ρ seno al cubo di θ meno l, che è il nostro limite che abbiamo calcolato facendo il limite per x e mx che tendono a 0, e quindi il nostro l è 0, sarà uguale al modulo di ρ seno cubo di θ meno 0, appunto, che è uguale, chiaramente, al modulo di ρ seno cubo di θ. Portiamo fuori il ρ e otteniamo ρ modulo di seno cubo di θ, ma noi sappiamo che il seno di un angolo è sempre compreso tra 1 e meno 1 e quindi, chiaramente, questa funzione ρ modulo di seno cubo di θ sarà sicuramente minore uguale a ρ e questa funzione tende a 0 per ρ che tende a 0, quindi il limite esiste ed è uguale a 0. Adesso, anche in questo caso, andiamo a verificare l'esistenza o meno del limite facendo il limite per x e y che tende a 0 di y quadro meno x al quadrato su x al quadrato più y al quadrato. Sostituiamo la nostra y con mx e otteniamo il limite per x e mx che tendono a 0 di m quadro x al quadrato tutto fratto x al quadrato più m quadro x al quadrato. Raccogliamo la x al quadrato sia al numeratore che al denominatore e otteniamo sia al numeratore che al denominatore proprio l'x al quadrato e quindi le semplifichiamo e otteniamo il limite per x e mx che tendono a 0 di m quadro meno 1 su m quadro più 1 come risultato proprio del limite di partenza. Quindi vediamo che questo limite dipende da m e quindi il limite non esiste perché diciamo che al variare di m, quindi anche al variare delle direzioni delle direzioni da cui non calcoliamo il limite, questo limite è diverso. Lo stesso vale per il terzo esempio. Abbiamo il limite per x e y che tendono a 0 di 2x più y al quadrato tutto fratto 4x meno y. Anche in questo caso sostituiamo la y con mx e otteniamo il limite per x e mx che tendono a 0 di 2x più m quadro x quadro su 4x meno mx ovvero il limite per x e mx che tendono a 0 di x raccolto sia sopra che sotto e che a loro volta si semplificano. ma diciamo che adesso andando a sostituire alla x al numeratore lo 0 otteniamo 2 su 4 meno m che anche in questo caso porta ad avere un risultato che varia al variare di m e quindi possiamo affermare che il limite non esiste. Allora, adesso vediamo l'ultimo esempio su questo argomento. Dobbiamo calcolare il limite per x e y che tendono a 0 della funzione 2xy moltiplicato per y al quadrato meno x al quadrato tutto fratto x al quadrato più y al quadrato. Facciamo il nostro cambio di variabile quindi al posto di y calcoliamo mx e quindi facciamo il limite per x e mx che tendono a 0 di 2x e mx moltiplicato per m quadro x quadro meno x quadro fratto x al quadrato più m quadro per x al quadrato. A questo punto che cosa facciamo? Raccogliamo x alla quarta al numeratore e x alla seconda al denominatore. Quindi si semplifica, noi abbiamo alla fine x alla seconda per 2m alla terza meno 2m fratto m al quadrato più 1 e questo limite chiaramente viene uguale a 0 quando andiamo a sostituire lo 0 alla x. Quindi questo limite esiste e andiamo a vedere quanto vale questo... cioè sappiamo che se esiste vale esattamente uguale a 0. Vediamo se esiste. Lo riscriviamo in coordinate polari e quindi otteniamo alla fine facendo tutte le varie semplificazioni come funzione 2rho alla seconda per il seno cubo di teta, coseno di teta meno il coseno cubo di teta per il seno di teta fratto coseno di teta meno seno di teta. A questo punto applichiamo la definizione di limite e quindi facciamo il modulo della nostra funzione meno il limite L che è esattamente uguale a 0. quindi il modulo di 2rho sen cubo teta coseno teta meno coseno cubo teta sen teta fratto 4 cosen teta meno sen teta. A questo punto portiamo la costante fuori e quindi 2rho per il modulo di sen cubo teta cosen teta meno coseno cubo teta sen teta fratto 4 cosen teta meno sen teta. Questo chiaramente sempre per il motivo che il coseno e il seno di un angolo comunque sono delle funzioni che sono sempre comprese tra meno 1 e 1. A questo punto se andate a fare tutti i vari ragionamenti vedete che poi c'è quel 4 ad denominatore questo 2rho per il modulo della funzione è sicuramente minore uguale a 2rho e quindi questa funzione tende a 0 per rho che tende a 0 e quindi questo limite vale esattamente uguale a 0. Vale esattamente 0. Allora, adesso cambiamo tipologia d'esercizio. Dobbiamo calcolare i gradienti delle seguenti funzioni. La prima funzione è una funzione di due variabili ed è uguale a coseno di x al quadrato più y al quadrato per e alla meno x. Quindi il gradiente conterrà la derivata della funzione la derivata parziale della funzione rispetto a x e la derivata parziale della funzione rispetto a y. Allora, osservando la funzione vediamo che è il prodotto di due funzioni. Il prodotto di due funzioni, vi ricordo che per derivarlo bisogna fare la derivata del primo per il secondo più la derivata del secondo per il primo. Quindi deriviamo prima il coseno della funzione x al quadrato più y al quadrato. La derivata del coseno di una funzione è meno seno della funzione per la derivata della funzione stessa. Quindi meno seno di x al quadrato più y al quadrato per 2x moltiplicato per e alla meno x. più, adesso deriviamo e alla meno x che sarà e alla meno x per meno 1 ovvero e alla f di x sarà e alla derivata sarà e alla f di x per la derivata prima di f di x. Quindi in questo caso meno x è la sua derivata e meno 1. Tutto moltiplicato per coseno di x al quadrato più y al quadrato. raccogliamo il meno e alla meno x e quindi otteniamo meno e alla meno x che viene moltiplicato per il seno di x al quadrato più y al quadrato per 2x più il coseno di x al quadrato più y al quadrato. Facciamo lo stesso per la derivata parziale della funzione rispetto a y e quindi otteniamo meno seno di x al quadrato più y al quadrato per 2y perché ora stiamo derivando rispetto a y moltiplicato per e alla meno x più e questo è uguale a raccogliamo sempre il meno e alla meno x e meno e alla meno x per il seno di x al quadrato più y al quadrato per 2y. Quindi chiaramente il gradiente della funzione è fatto da queste due componenti la derivata parziale rispetto a x e la derivata parziale rispetto a y. Ora abbiamo la funzione di tre variabili x, y e z che è uguale a x al quadrato z più y al quadrato z più x, y più 3z alla terza meno 1. Deriviamo parzialmente rispetto a x e otteniamo la derivata parziale di x al quadrato z sarà quindi 2x per z perché è come se z fosse una costante più y al quadrato più y, scusate, più y. Poi la derivata della funzione rispetto invece a y sarà 2y z più x perché quelli y al quadrato z deriviamo y e quindi viene 2y moltiplicato per z perché anche in questo caso stiamo derivando rispetto a y e z è come se fosse una costante. Poi abbiamo la derivata parziale della funzione rispetto a z e quindi otteniamo x al quadrato perché x al quadrato z z che è la sua derivata è 1 e quelli x al quadrato è come se fosse una costante quindi x al quadrato più y al quadrato anche in questo caso vale quello che ho appena detto più 9z al quadrato e quindi il gradiente della funzione conterrà tutte e tre queste componenti. Ora facciamo lo stesso per la terza funzione. La terza funzione è un logaritmo naturale di 1 più x quadro y quadro per il seno di x meno y anche in questo caso abbiamo il prodotto di due funzioni quindi derivata del primo per il secondo più derivata del secondo per il primo. deriviamo rispetto a x allora la derivata rispetto a x del logaritmo di una funzione è la derivata prima della funzione fratto la funzione stessa quindi la derivata prima di 1 più x al quadrato y al quadrato rispetto a x sarà 2xy al quadrato fratto 1 più x al quadrato y al quadrato moltiplicato per il seno di x meno y ora adesso sommiamo a questo la derivata del coseno moltiplicata per il seno di 1 più x al quadrato y al quadrato quindi più logaritmo di 1 più x al quadrato y al quadrato moltiplicato per il seno di x meno y che è coseno di x meno y per la derivata di x meno y che è 1 rispetto a x lo stesso facciamo per la derivata rispetto a y e otteniamo 2y x al quadrato su 1 più x al quadrato y al quadrato per il seno di x meno y più il logaritmo naturale di 1 più x al quadrato y al quadrato per il coseno di x meno y per meno 1 quel meno 1 perché la derivata rispetto a y di x meno y è meno 1 e quindi il gradiente avrà queste due componenti ultimo esercizio sul gradiente abbiamo la funzione xy in xy uguale a e alla meno x al quadrato meno y al quadrato vabbè qua viene raccolto il meno moltiplicato per questo polinomio che è x al quadrato più 2y al quadrato deriviamo anche in questo caso ragazzi abbiamo un prodotto di due funzioni quindi deriviamo prima e e poi il polinomio deriviamo e e alla f di x sappiamo che la sua derivata è e alla f di x per f primo di x quindi e alla meno x quadro più y quadro per meno 2x che è la derivata rispetto a x di x al quadrato più y al quadrato anzi di meno x al quadrato meno y al quadrato moltiplicato per x al quadrato più 2y al quadrato più e alla meno x al quadrato meno y al quadrato sempre moltiplicato per la derivata di rispetto a x di x al quadrato più 2y al quadrato che è 2x adesso a questo punto noi ci riscriviamo la nostra funzione raccogliamo il meno 2x e ce lo riscriviamo come meno 2x e alla meno x al quadrato più y al quadrato raccolto moltiplicato per x al quadrato più 2y al quadrato meno 1 meno 1 adesso a questo punto deriviamo rispetto a y e alla fine otteniamo sempre facendo lo stesso ragionamento la derivata parziale della funzione rispetto a y che è uguale a meno 2y e alla meno x quadro meno y quadro moltiplicato per x al quadrato più 2y al quadrato meno 2 ultimo esercizio calcolare l'integrale doppio l'integrale che va da 0 a 3 e l'integrale che va da 0 alla radice di 4 meno y della funzione xy in dx di y quindi che cosa facciamo? vediamo che diciamo gli estremi dell'integrale interno sono in funzione di y e quindi che cosa dobbiamo fare? noi dobbiamo prima effettuare l'integrale in dx e poi alla fine in dy quindi allora l'integrale di x più y dobbiamo considerarlo in dx come se fosse x più una costante ok e quindi chiaramente possiamo staccare questa funzione come l'integrale da 0 a 3 dell'integrale che va da 0 alla radice di 4 meno y di x in dx più l'integrale che va da 0 alla radice di 4 meno y di y sempre in dx tutto calcolato alla fine in dy allora l'integrale di x è sicuramente x al quadrato mezzi più l'integrale di y che è xy perché y vi ripeto è come se fosse una costante quindi l'integrale di una costante in dx è sicuramente x per quella costante quindi otteniamo x al quadrato mezzi più xy e dobbiamo calcolarlo prima in radice di 4 meno y e poi a questo sottraiamo sempre la funzione quello che abbiamo ottenuto dal primo integrale in 0 chiaramente questo è una cosa che noi andiamo ad omettere perché andando a sostituire lo 0 alla x ci viene tutto 0 quindi in realtà non lo faremo direttamente è una cosa implicita che però non esplicitiamo alla fine quindi andando a sostituire questo radice di 4 meno y al posto della x otteniamo l'integrale che va da 0 a t di 4 meno y perché quella radice si leva fratto 2 più la radice di 4 meno y per y tutto in dy a questo punto stacchiamo la funzione come somma di due integrali e otteniamo l'integrale che va da 0 a 3 di 4 meno y mezzi in dy più l'integrale che va da 0 a 3 di y radice di 4 meno y a questo punto questo 4 meno y mezzi è come se noi lo scrivessimo un mezzo per 4 meno y quindi l'un mezzo ce lo portiamo fuori e ci stacchiamo qui il 4 meno y quindi viene un mezzo per l'integrale che va da 0 a 3 di 4 in dy meno l'integrale che va da 0 a 3 di y in dy e a questo poi sommiamo l'integrale che va da 0 a 3 di y radice di 4 meno y dy ora con i metodi di integrazione che conosciamo andiamo a trovare quest'ultimo integrale e ci ritroviamo come risultato finale 94 quindicesimi fatelo da soli e andate a vedere se vi viene esattamente questo numero quindi moltiplichiamo un mezzo per quei risultati degli integrali che in realtà sono l'integrale che va da 0 a 3 di 4 in dy sarà 4y meno l'integrale che va da 0 a 3 di y in dy è y quadrato mezzi e quindi ce lo andiamo a calcolare in 3 e in 0 e otteniamo un mezzo che moltiplica 12 meno 9 mezzi e a tutto questo sommiamo chiaramente quell'ultimo risultato dell'integrale che era 94 quindicesimi otteniamo come risultato finale 601 sessantesimi all'incirca 10,016 e questa esercitazione termina qui